Battuto corto, il tentativo, il gol bellissimo di Danilo che ha scagliato da circa 25 metri un destro che non ha lasciato scampo a consigli, battuto a sorpresa il calcio d'angolo e Juventus in vantaggio al quinto e qui ha segnato il 2 a 0 la Juventus con Higuain dodicesimo minuto, azione di contropiede sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare è andato a segnare controllando il pallone di destro Higuain stasera titolare un bel lancio, Massimo Barchiesi, il Sassuolo riapre la partita al ventinovesimo minuto gol del serbo Djuricic, Sassuolo 1, Juventus 2, pareggio del Sassuolo, ti chiedo scusa minuto numero 6 direttamente su punizione, la perla di sinistro di Berardi Sassuolo 2, Juventus 2, sesto minuto, gol di Berardi serie di finte, pallone sul destro, conclusione e poi il gol da parte di Caputo per il vantaggio del Sassuolo porta alla nostra destra dopo 9 minuti in scivolata Caputo sul secondo palo il pareggio della Juventus con Alexandro, diciannovesimo minuto colpo di testa vincente del brasiliano Sassuolo 3, Juventus 3, Stadio Olimpico